Giunta comunale di Leporano riunita con il sindaco, l'avvocato Angelo D'Abramo. Quest'oggi si lavora tutta una serie di interventi che poi andremo a specificare, ma torniamo sui lavori in corso e che riguardano la Litorania ma anche il centro di raccolta. La Litorania abbiamo già deliberato una settimana fa più o meno per la realizzazione del nuovo manto stradale, la messa in sicurezza anche per quanto riguarda i marciapiedi e la predisposizione del nuovo impianto di pubblica illuminazione. Stiamo parlando di circa 200 mila euro, anzi oltre 200 mila euro di investimento con il nostro bilancio e quindi andiamo avanti con i nostri lavori. Per quanto riguarda il centro di raccolta vorrei precisare una volta per sempre un finanziamento regionale che abbiamo ottenuto da regione di 300 mila euro e che otterremo dopo la presentazione di tutti gli atti necessari per il finanziamento. Ma il centro di raccolta, che è poi un'isola ecologica, sostanzialmente non è una discarica e non sarà realizzata né nelle scuole né nel bosco. Sarà realizzata soltanto una parte completamente lontana e totalmente lontana dalle scuole e dal bosco nella misura di 2000 metri quadri su 32 ettari. E quindi sarà comunque un'entrata indipendente e servirà alla popolazione locale, della zona esterna, per conferire i piccoli ingombranti, gli arbusti, quindi un servizio in più per la collettività. Mi sembra qualcosa di assolutamente necessario per una comunità, dobbiamo ricordare, quella di Leporano, che poi ingigantisce i propri numeri proprio d'estate con l'arrivo di numerosi villeggianti, ma anche di numerosi cittadini tarantini e non solo, che hanno la seconda casa, la casa a mare, proprio nel comune di Leporano. Beh, questo serve chiaramente per agevolare, ripeto, la popolazione, anche quella residente, ma anche quella estiva, proprio perché devono avere un punto di riferimento dove conferire gli arbusti, cioè quello che si produce a livello di potature, e i piccoli ingombranti, in modo che non ci sia più quel brutto fenomeno dell'abbandono sulle strade di questi rifiuti. Ecco, e su questo argomento ci siamo tornati molte volte, abbiamo visto anche l'operosità dell'amministrazione comunale, abbiamo visto anche i cittadini che finalmente capiscono il senso, per tenere pulita una città, un paese, un comune, una litoranea, bisogna lavorare in due, la pubblica amministrazione e il senso civico dei cittadini. Beh, questo significa comunque civiltà. Se noi vogliamo dotarci e abbiamo bisogno di dotarci di questi servizi è perché dobbiamo essere più civili, più vicini ai paesi europei. Io sono stato poco tempo fa a Vienna, anzi, con mio figlio, e abbiamo trovato a 400 metri dal Palazzo Imperiale un inceneritore che serve alla città di energia elettrica e acqua calda. Quindi stiamo parlando di civiltà e dobbiamo rendere questi servizi nel miglior modo possibile senza creare, essere invasivi, creare inquinamento, ma facendo chiaramente, seguendo le norme, le direttive comunitarie, regionali, facendo tutto a norme e dando questi servizi ai cittadini.